La Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ha festeggiato i vent'anni dell'apertura al pubblico con una giornata dedicata all'arte e alla storia, aprendo gratuitamente le sue porte ai visitatori. Il ventennale della Fondazione Bruschi vuole sancire questo aspetto, un regalo alla città. La Fondazione Bruschi come casa dei viaretini. Per festeggiare la ricorrenza è stato anche organizzato un colloquio tra il conservatore Carlo Sisi e Arturo Galanzino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi per ripercorrere le collaborazioni create negli anni. Ultima solamente in ordine temporale, quella inaugurata alcuni giorni fa a Palazzo Strozzi, la mostra Donatello il Rinascimento, evento a cui si collega l'esposizione ospitata alla Casa Museo Bruschi, la scultura di Donatello nelle fotografie di Antonio Quattrone. Le collaborazioni sono sempre importanti da ambo le parti. Per Palazzo Strozzi è strategico fare squadra e costruire una rete con tante istituzioni, non solo a Firenze ma anche fuori dal capoluogo, in tutta la regione toscana, che è il nostro territorio di riferimento. Quindi assolutamente queste collaborazioni con Arezzo e la Fondazione Bruschi sono per noi molto importanti. Infatti non è la prima questa di Donatello, ma è una delle tante e sicuramente continuerò in futuro in questo senso. L'esposizione alla Casa Museo vuol ripercorrere l'intera vicenda artistica del maestro Fiorentino, mettendo a fuoco particolari sculture grazie agli scatti di Antonio Quattrone. Che mettono in evidenza l'intero percorso dell'attività di Donatello con una grande capacità di individuare le materie. Quindi è un'occasione importante per leggere da vicino l'opera. È molto difficile fotografare la scultura, bisogna capire innanzitutto cosa si ha davanti, quindi bisogna avere una sensibilità artistica notevolissima per capire il punto di vista, il dettaglio, al di là di tutti gli aspetti più tecnici di un fotografo, ma già soltanto come guardare la scultura. Quindi al di là della bravura come fotografo ci va anche lo sguardo dello storico dell'arte.